Nuovo appuntamento con tra le righe consigli di lettura. Anche questa settimana siamo nella libreria Padre Pio, a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Come consuetudine partiamo con un libro edito dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina che riguarda proprio il Santo Frate del Gargano. E' un grande classico. Padre Pio racconta e dice, a firma di Padre Alessandro Daripa Bottoni, considerato uno dei biografi più autorevoli del Santo. I suoi scritti, i suoi studi per la ricchezza e la storicità dei contenuti sono davvero stati fondamentali sia per il processo di beatificazione che per quello di canonizzazione del Santo Frate di Pietrelcina. Un altro merito ha avuto Padre Alessandro è quello di raccogliere tanti fatti e detti di Padre Pio e poi è riuscito a raccoglierli in questo libro nel quale davvero si trovano tanti episodi, aneddoti e riflessioni che davvero contribuiscono, potremmo dire, ad approfondire la conoscenza della personalità e soprattutto della spiritualità del Santo di Pietrelcina. A pagina 168, leggiamo questo passaggio appunto del libro di Padre Alessandro Daripa Bottoni, sono davvero tanti episodi. Uno in particolare, il racconto del miracolo avvenuto quasi per scherzo, caratterizzato dalla frase dialettale «Te, rosic, tieni rosica». La prendiamo dalla viva voce del cappuccino Padre Marcellino Ia Senzaniro. Un giorno durante una ricreazione, Padre Pio teneva su l'epide spiritosa a brucia pelo, gli fu domandato «Padre spirituale, avete mai fatto qualche miracolo?» Preso così in contropiede, con un sorriso, Padre Pio rispose «sì, una volta, è quasi per scherzo». Poi seguitò «C'era un'ammalata che io andavo ogni tanto a visitare. La poveretta, pur ringraziando tutte le volte che io mi congedavo, mi pregava perché la prossima volta le portassi qualcosa da mangiare che era stata sulla mia mensa. Un giorno dopo aver pranzato, mentre riponevo la posata nel cassetto, notai nel fondo di esso un propato, biscotto durissimo, che doveva essere lì da parecchio. Lo misi in tasca e andai a visitare l'ammalata. Entrato in casa, prima che lei rispondesse al mio saluto, dissi quasi con faceta ironia «Tieni, rosica, dandole il biscotto. Voi ci credereste? Quando ritornai da lei la volta successiva, la trovai che mi aspettava in piedi e mi ringraziava, perché era guarita dopo aver mangiato il propato, appunto questo biscotto, e mi fece rimanere con un palmo di naso». Questi e tanti altri episodi che non si possono commentare perché parlano da sé, li trovate in questo straordinario volume di padre Alessandro D'Aripa Bottoni, padre Pio racconta e dice, come sempre, edizioni padre Pio da Pietrelcino. «Dio scommette su di noi», edito dalle Paoline, pregare con Don Tonino Bello, che, come dire, non ha bisogno di presentazioni. Un libro in cui vengono raccolte tante preghiere e anche scritti del Vescovo in odore di santità, Vescovo Emerito di Molfetta. «Quale impatto possono avere gli auguri su chi è preda del consumismo, vive a danno degli altri, non ha prospettive per il futuro?» Don Tonino, nonostante lo scenario poco confortante, afferma che non può venire meno l'impegno ad annunciare con fermezza che Gesù viene per tutti, perciò invita ad aprire il cuore alla speranza. Questa preghiera si intitola «A misura di cielo». «Come saranno accolti, Signore, questi auguri dalla folla dei nuovi poveri, che il nostro sistema di vita ignora e perfino coltiva? Dagli anziani reclusi in certi ospizi, o abbandonati alla solitudine dalle loro case vuote, dai tossicodipendenti e prigionieri di una insana volutà di autodistruzione, dagli sfrattati che impregano contro il destino, dagli escarcerati che non trovano affetto, dai dimessi degli ospedali psichiatrici che si aggirano come larve, dagli operai in cassa integrazione senza prospettive, dai disoccupati senza speranze, da tutta la gente, insomma, priva dell'essenziale, la salute, la casa, il lavoro, l'accesso alla cultura, la partecipazione. Mi domando che effetto faranno gli auguri di Natale, anche se Natale è passato da qualche mese, però appunto è una preghiera troppo bella questa, che può essere recitata davvero quotidianamente. Formulati così, su tanta gente appiattita dal consumismo, resa satura dallo spreco, devastata dalle passioni, sulla moltitudine di giovani incerti del domani, travagliati da drammi interiori, incompresi sui loro problemi affettivi, sulle folle di stranieri che abitano qui da noi e ai quali ancora con i fatti non abbiamo saputo dimostrare di essere convinti che Gesù è venuto anche per loro. E poi ancora. E allora dovrei abbassare il tiro? Dovrei correggere la traiettoria e formulare auguri terra a terra, a livello di tane e non di vetta, a misura di cortile e non di cielo? No, non me la sento di appiattire il linguaggio. Anzi, se c'è una grazia che desidero chiedere a Gesù, che nasce per me, per tutti, è quella di essere capaci di annunciare, con la fermezza di chissà, che non resteranno deluse speranze sempre eccedenti su tutte le attese del mondo. Questa è una preghiera, appunto, tratta proprio dagli scritti di Don Tonino Bello. Questa e tante altre le troverete in questo libro edito dalle Paoline. Dio scommette su di noi pregare con Don Tonino Bello. Ritroviamo un altro libro del monaco benedettino, Anselm Grum, che, è il caso di dire, pubblica quasi un libro al mese, forse anche di più. Per la Queriniana, una nuova spiritualità della gioia di vivere. Scrivere, leggo un passaggio, appunto, che scrive a pagina 8 Anselm Grum. Mentre scrivevo questo libro, sono sempre stato aperto ad ogni cosa bella che incontravo, compreso ciò che altri autori hanno scritto a proposito del bello. In questo processo mi sono reso conto, finora, di aver trascurato questo argomento. Anche nella spiritualità cristiana, questa tematica non è al centro dell'attenzione. Ci sono alcuni teologi che ne hanno scritto, come ad esempio Hans Urs for Balthasar nella sua monumentale Gloria. Il suo linguaggio, però, non riesce ad entusiasmare per il bello le molte persone in ricerca. Questa tematica era al di fuori del suo orizzonte, così come anche per me è stato a lungo al di fuori del mio pensiero. E poi ancora, scrivendo a proposito del bello, non voglio sconfinare dell'estetismo. Desidero contemplare il bello in mezzo alla realtà di questo mondo. Per me, il volgersi alla bellezza è un recupero del conforto della nostra esistenza terrena, pur con tutte le minacce e rischi a cui siamo esposti. Proprio se mi voto interamente a lavorare in questo mondo, ho bisogno del bello come rifugio per l'anima, in mezzo a tutta la desolazione che incontro talvolta nei colloqui con le persone. E poi, durante la mia ricerca, ho trovato un articolo sul tema Che cos'è bello? In esso si parla, da un lato, del desiderio profondo delle persone di essere belle e dai diversi ideali di bellezza. Soprattutto però si parla anche della tematica che sta a cuore, qui parla appunto di un articolo letto su una rivista, dell'Istituto Assicurativo, le numerose operazioni di chirurgia estetica verso cui molti oggi si sentono spinti dal desiderio di bellezza. Molte persone ritengono che la bellezza sia fabbricabile, ma non è così. Molti ritengono che l'aspetto esteriore sia determinante per il successo nel lavoro, nella ricerca di un compagno, per il riconoscimento nella società. E così molti uomini e donne hanno un comportamento aggressivo verso il proprio corpo. Che cosa augura in questo libro Anselm Grun? Desidero portarvi con me nel mio viaggio di scoperta e vi auguro di recepire con consapevolezza ancora maggiore il bello che percepite già da sempre e che avete sempre incontrato. Vi auguro che l'occuparsi della bellezza si trasformi per voi in un cammino spirituale. Nel bello, infatti, in ultima analisi, incontriamo la bellezza di Dio. Nel bello ci si rivolge la parola, quel Dio che, una volta portata a termine la creazione, dice, ed ecco, è una cosa molto bella. Questo libro, appunto, è edito da Queriniana, Anselm Grum, Bellezza, edito appunto dalla Queriniana, una nuova spiritualità della gioia e di vivere. E concludiamo con un libro di Bruno Ferrero, Piccole storie per l'anima. LDC, il libro si intitola L'iceberg e la duna. Questo libretto racconta piccole storie con semplicità, così come tutte quelle della collana Piccole storie per l'anima. Leggiamone una, così, al volo. Qual è il titolo di questa storia? Il bambino e il vecchio. Disse il bambino, a volte lascio cadere il cucchiaio, disse il vecchio, succede spesso anche a me. Il bambino sussurrò, ho bagnato i pantaloni, lo faccio anch'io, sorrise il vecchietto. Disse il bambino, io piango spesso, il vecchio a noi, anch'io. Ma la cosa peggiore di tutte, disse il bambino, è che nessuno presta attenzione a me. In quel momento sentì il calore di una vecchia mano rugosa sulla sua manina paffuta. So che cosa vuoi dire, disse il vecchietto. Dall'inizio alla fine, la vita è fragile. Questo è il commento in coda a questa storia molto bella di Bruno Ferrero. Ne troverete tante, 17 per l'esattezza, in questo libro. L'iceberg e la duna, piccole storie per l'anima, edito dalla LDC, firmato da Bruno Ferrero. Con questa ultima segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana contro le righe.